Il modo di cercare e vendere casa sta cambiando. Adesso è più comodo e veloce. Videocasa Italia propone i video immobiliari a 360 gradi. Puoi visitare anche più di 20 immobili al giorno senza uscire di casa, comodamente seduto in poltrona. Andrei a visitare di persona solo quelli che ti hanno incolpito. Basta fare entrare chiunque in casa e perdere tempo a rassettare ogni volta. E soprattutto basta ai soliti curiosi che fanno solo perdere tempo. Le visite di persona si limiteranno esclusivamente alle persone realmente interessate all'immobile. Che tu stia cercando o vendendo casa, con i video immobiliari puoi ampliare notevolmente il bacino di interesse. Potresti trovare la casa dei sogni nel paesino vicino oppure vendere casa tua ad uno straniero. Non ci sono più limiti geografici. Molto spesso si escludono a priori tutte le visite degli immobili che non rispecchiano la nostra prima idea. E magari fra quelli scartati c'è proprio la nostra casa dei sogni. Con i video a 360 gradi possiamo visitare anche immobili che normalmente avremo scartato, perché possiamo visitarli 24 ore su 24, 365 giorni all'anno, senza infastidire nessuno. A differenza di un video tradizionale, con la tecnologia a 360 gradi, possiamo ruotare lo sguardo in qualsiasi direzione, senza vincoli. E' la cosa che più si avvicina ad una visita di persona. Migliaia di appuntamenti inutili evitati significa anche meno inquinamento e più rispetto per l'ambiente. Sono in continua crescita gli acquirenti immobiliari stranieri, soprattutto tedeschi ed inglesi. L'unica difficoltà che trovano è che non possono fare continue visite di persone. Videocase Italia è la soluzione. Grazie a tutti!